Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi ci troviamo a Roma in via Bergamo 56 al ristorante Ops dove sono venuto a mangiare qualche volta mi sono trovato molto bene e ve lo vorrei far vedere Ops è un ristorante completamente vegano con una formula particolare si mangia a buffet, qui potete vedere tutto il ricco buffet ci sono tantissimi piatti buoni, sui piatti c'è specificato se sono proteici, con carboidrati se è un piatto glumista, senza glutine, se è un prodotto congelato, se c'è il sale, se c'è la frutta guscio se c'è la soia, se è piccante, voi venite con il vostro piatto, vi riempite il vostro piatto di tutte le cose buone che vedete qua e che potete mangiare poi, una volta che avete il piatto pronto, lo portate alla cassa dove c'è una bilancia si pesa, qui abbiamo l'humus qui abbiamo vari tipi di humus qui ci sono tutte paste, legumi, lasagne, cannelloni qui c'è tutta la sezione delle verdure, qui ci sono i fritti, qui abbiamo le salse, qui abbiamo le spezie e quindi niente, voi vi fate il vostro piatto, poi lo portate in cassa, ve lo pesano con la bilancia e praticamente si paga 28 euro al chilo che non è tanto perché io mi faccio un bel piatto da 7 etti, mi costa meno di 20 euro alla fine un posto elegante, un quartiere abbastanza elegante, 20 euro non è troppo poi ci sono tutta una serie di scelte crudiste, ci sono le centrifughe, ci sono le spremute, ci sono i gelati i gelati, i dessert quindi il posto è bellissimo, non lo inquadro perché sennò poi dovrei chiedere il permesso alle varie persone di essere riprese quindi vi ho fatto vedere solo il buffet comunque vi invito tutti a venirci e niente, vi saluto, alla prossima, ciao!